Mi chiamo Cicco Cintoni e sono il più giovane rapper in Italia. La passione della musica è stato grazie a tutto per Alessandro Baccadano. Lui mi ha detto che vuoi cantare con me, io gli ho detto va bene. Dopo abbiamo fatto quel pezzo e ci ho preso la mano. Siamo dappertutto. Di cosa parli nelle tue canzoni? Di cosa parlano? Di cosa parlano? Di soldi, queste cose. Macchine. Di case, Louis Vuitton. Tipo... La Porsche da 2. Ce l'abbiamo. Tipo... Ehm... Louis Vuitton. Scrivo sempre di getto, non mi ricordo perché. La casa Louis Vuitton ce la abbiamo. Ehm... 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 Ehm...